Il Centro Pastorale per l'Evangelizzazione e la Catechesi cerca di porsi in ascolto e in dialogo con tutte le comunità della Diocesi per coordinare la Catechesi e l'Evangelizzazione. Coordinare significa fare un servizio appunto di ascolto e di comunione. Ci sono realtà diverse, particolari, con una tradizione bella, ricca, locale, che hanno bisogno di esprimere la loro specificità e al tempo stesso di fare comunione in una Chiesa grande come la nostra. È questo che in estrema sintesi cerca di fare il Centro, andando, spostandosi attraverso le persone che lo compongono, una consulta fatta da rappresentanti di tutti i vicariati, una consulta che cerca di spostarsi e di rendersi presente laddove questo è richiesto. È l'immagine dei cantieri che la Chiesa italiana ha adoperato per, in qualche modo, creare uno sfondo a questo secondo anno di ascolto sinodale. A noi è piaciuta molto e i cantieri di Betania li abbiamo tradotti nei cantieri della Catechesi. Quindi andiamo anche noi ad aprire altrettanti cantieri perché il cantiere è un posto stimolante, è un posto provvisorio, come la tenda che il Signore metterà in mezzo a noi ancora una volta. È un posto dove c'è fermento, dove ci si ferma a progettare e poi ci si mette al lavoro, dove quello che è fatto è sempre suscettibile di essere ripensato e riformulato. Quindi questa idea così dinamica di una Chiesa in cammino ci piace e ci stimola. E anche per quello che sarà il futuro auguriamo questo stesso atteggiamento del cantiere. Quali sono le principali attività portate avanti appunto dal Centro Pastorale per l'Evangelizzazione della Catechesi? Allora, in questi anni c'è stata un'attenzione particolare a un progetto relativo all'iniziazione cristiana dei bambini, dei ragazzi e poi seguito da un percorso crismale che è stato concepito nel periodo del lockdown, significativamente forse, chissà, e che attualmente viene adoperato in forma sperimentale da alcune comunità. Quindi tutto questo è in opera ormai da alcuni anni, probabilmente necessita anche di essere rivisto, ripensato e riespresso attraverso categorie ancora più attuali, proprio nell'ottica che dicevo prima. Questo è stato un impegno importante sicuramente del Centro, l'iniziazione dei bambini e dei ragazzi. Poi ci sono dei cantieri aperti molto promettenti, uno di questi sicuramente è l'iniziazione cristiana dei giovani e degli adulti. Il Catecumanato degli adulti negli ultimi anni ha fatto registrare, al di là del numero delle persone che è crescente, adulti e giovani, che chiedono di diventare cristiani, quindi di essere battezzati, ma al di là del numero è proprio un'esperienza di una Chiesa che si scopre veramente in stato di evangelizzazione. Di nuovo, un istituto, quello del Catecumanato, per molti anni non presente nella Chiesa o di fatto non non presente, ma non necessario in un territorio, in una cultura come la nostra, che era abbastanza uniforme dal punto di vista sociologico quanto alla fede, adesso per tanti motivi, per motivi della mobilità, per motivi che noi chiamiamo secolarizzazione e per tanto altro ancora troviamo tanti adulti che chiedono di diventare cristiani. Questo è un segno, penso, bellissimo, è un'emozione che lo Spirito ci sta veramente suggerendo proprio in ordine all'evangelizzazione. Quindi anche lì, percorsi adatti agli adulti, dove il Kerigma prende le pieghe della vita delle persone, le incontra là dove sono, secondo lo stile di Gesù. Un'altra attenzione, non mi piace chiamarlo settore perché proprio è la parola meno indicata per esprimere questa realtà, è quello della Catechesi con le persone disabili. Il Vescovo Andrea significativamente inizia il suo cammino verso la Cattedrale da un luogo dove c'è questa attenzione verso le diverse abilità. Ecco, si tratta di attenzione ai linguaggi, attenzione alle modalità e quindi attenzione a comunicare il Vangelo in modo inclusivo. È un monito forte che viene a tutte le nostre comunità e che sta prendendo campo attraverso attenzioni significative. Anche questo è veramente una sensibilità che il Centro cerca di maturare in se stesso e di comunicare anche alle comunità. Che cosa c'è in cantiere? Quali sono le idee e i progetti? Quindi cercare di un attimino di rivedere questi progetti che sono già in essere per riesprimerli in modo più adatto anche a quello che il Vescovo nuovo vorrà indicarci. Un'attenzione io la ricentrerei molto sugli adulti a tutti i livelli. La Chiesa Italiana dagli anni 70 fa il focus dell'annuncio sugli adulti. Noi probabilmente un po' per affezione, un po' forse per semplicità, cerchiamo sempre di puntare sui bambini e ragazzi. Naturalmente è il cantiere che ha ancora più movimento nelle parrocchie e quindi ci rimane più naturale rivolgerci a loro. Però dobbiamo prendere atto che se la nostra proposta non intercetta il mondo adulto, poi si scontra inevitabilmente con le crisi dovute ai passaggi di vita che non trovano un ambiente, non trovano un luogo per essere elaborate verso appunto un mondo adulto e quindi poi abbiamo quelli che noi chiamiamo gli abbandoni e tutto quanto. Che non vengono tanto, come si dice, un po' nella vulgata della catechesi, perché il catechismo non è efficace. Sappiamo che ci sono anche molte proposte, anche nella Chiesa oltre il catechismo, proposte di comunità adatte a bambini e ragazzi che sono assolutamente molto valide. Un po' si tratta chiaramente delle fasi della vita dei ragazzi che portano anche a certe situazioni, ma sicuramente il centro della questione è il mondo adulto. Quindi sulla catechesi agli adulti, su proposte di evangelizzazione, cioè di riproposizione del kerigma, in modo storicamente vicino alle persone, sul modello di Gesù, bisognerà, a mio parere, interrogarci ancora. Questa è una sicuramente delle emergenze più importanti.